Sopralluogo questa mattina dell'ASL di Teramo al mercato coperto per stabilire quando poter riaprire la struttura. Sì esatto, nella riunione di ieri abbiamo deciso di chiedere all'ASL di accompagnarci in un nuovo sopralluogo al mercato coperto per definire la possibilità di una riapertura rapida, chiaramente facendo degli interventi mirati. Proprio in questo sopralluogo di questa mattina l'ASL ci ha confermato che attraverso una sanificazione approfondita di tutto il mercato coperto l'inserimento dei flap in plastica trasparente nelle porte di ingresso e di uscita del mercato e la sostituzione di un vetro che si è rotto e la sostituzione di un paio di porte del bagno degli operatori è possibile intanto procedere alla riapertura. Tra quanti giorni? Credo che questi interventi possano essere comunque ottemperati in 10-15 giorni. Per quanto riguarda invece gli altri interventi che comunque sono stati scritti a verbale, quindi l'impermeabilizzazione del tetto e altri interventi strutturali di sostituzione di porte di ingresso e di uscita con porte meccanizzate eccetera potranno essere fatti nel tempo quando il mercato è già riaperto quindi possiamo programmarli. Questa è un'ottima notizia soprattutto perché è la nostra intenzione far rientrare il prima possibile gli operatori e anche gli operatori chiaramente chiederemo di aggiornare tutta l'attrezzatura perché chiaramente ci sono degli stand che vanno sostituiti e altre attrezzature. Diciamo che per il periodo natalizio potranno lavorare tranquillamente dentro il mercato coperto. Assolutamente la nostra intenzione è proprio quella, soprattutto di dare una sistemata importante a quel mercato sempre però andiamo nella direzione, proprio il 25 di novembre parteciperemo al bando City Branding quindi è nostra intenzione recuperare in maniera funzionale quello stabile proprio perché ha una vocazione straordinaria ed è uno delle piazze, uno dei luoghi più emblematici della nostra città sotto l'aspetto in particolare delle no gastronomie e dei prodotti del territorio.